L'invocazione si potrebbero anche mettere in clave Fanno una reaction una dopo l'altra Sempre trollando in una maniera spaventosa Io non so come fate a divertirmi Vaffanculo Cerbero Podcast, succo Quello che dice il Cerbero a me non mi influenza Cioè la loro opinione per me non ha valore Succhiatemi il cazzo Io creo, io macino, macino Ma ragione, se non parlate su queste te Dopo questa situazione vi dovete stare zitti Non basta far vedere una sentenza Non funziona così Mi è arrivato un messaggio da parte di Matteo Sabba Senza denunce siete dei po' qua la qua Già scazzatini sai cosa fare Io faccio l'advisor nella vita Oltre che fare l'investor per una serie di aziende Alcune di queste anche quotate diverse piazze borsistiche Sì, ma io ho quattro di Ferrari Eh, ma lo sai come sono fatti i russi? Sono pragmatici Ma io non sono bannato Ma non c'è cazzo, tre quante cazzo Matte, ma fammono un buco Trent'anni è tu dubito Siamo rovinati, ma chissà quarent'anni sta proprio distrutto Ho anche a fare tutti i giorni con tante teste di cazzo Sono il top villain Scusa festa bianca Ciao Matteo, grazie Vedo tanta gente rosicare per 30k sub di Moch Ragazzi, di gran lunga il miglior streamer di Twitch Italia Ma proprio non c'è storia Cioè, se Moch ha un 10 Allora è il secondo streamer della nostra community Chiunque questo sia È un divido 7 A cazzaro, ma che stai a dire? Io non riesco mai Se l'umano medio mi fa schifo Ma porca no M'esci da casa M'esci da casa, te Perché vai vedere i burbazzati Io non sono un brasiliano Io sono un uomo Di a te di aderire io ho 29 di mandare Andrebbe punito di più del premio Era quest'uomo che si era inventato di essere un famoso cantante Il suo intento è quello di cantare Magari anche cantare in pubblico Io Dicevo un boscar Internet non ha bisogno di questi personaggi Arriviamo al dunque Dunque, dunque Che cosa mi vuoi parlare? Dunque Scusa, come? Dunque Sono già pronto a sentire la supercazzola Tratto, i miei meme come a saputo fossero qualcosa di opera Datevi consigli di merda Siete dei babbi Siete delle capri 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 Ehi, non ha casi di successo Ce ne dica uno Ascolta bene, ma credo Dite rispetto Perché io ho pensato in due Io ti schiaccio come un verme Ma se io manco rispetto a te Ti schiaccio come un bagarotto Tece, sport Siete solo le mani Non hai capito Quanto ti sei messo Tu stavi qua dentro la quale Non seguite più i telegiornali Non sei cittadini Un troppo lungo Tu vuoi un pinzer Sicuramente tu ti farai male Parola del Presidente Ti è stato indondato Ma c'è questa saliva in griego Poi hanno continuato la loro trasmissione Ma trasmissione, no A me piacerebbe che ci fosse un partito solo Che si occupa dell'Italia Si può essere la cisse dove le vettiremo Oggi sono faccio Ti metto particolare Ma io mi ci gioco quello che vuoi Non ti lascia spendere tutti i miei neri Allora, re, hai un senso dell'umorismo Che porca puttana, veramente Te lo disinterro Tagliatremi È quello che mi fanno la rabbia Sì Scusi, ma segui Coffi Zilla Vuola di boooote Non l'ho smatto Che è successo Che è successo Che è successo Che è un sacco Che ti ho detto Che è un sacco Che è un sacco Sotto il caldo è sotto No Non mi hai detto el culo Sì Sembra un contro a faccia Puro il calzo éculo Qualcuno mi passi la carta igienica Sono dinanzi una scena patetica Mi sembra normale il misterio domenica Dopo una vera sera da frenetica Cagato, sto tutto cagato Tutto cagato, sto tutto cagato Mezzo approssi, lotta a maggio E meno, toglie a me e brucia il culetto Qualcuno mi passi la carta igienica Sono dinanzi una scena patetica Mi sembra normale il misterio domenica Dopo una vera sera da frenetica Cagato, sto tutto cagato Tutto cagato, sto tutto cagato La prossima volta magno de meno Parco di home e brucia Già volevo andar via Sono arrivato là alle undici e mezza Ho visto la situazione Già dopo un'ora me ne volevo andare Perché quella l'ho chiavata Quella sega, quella pompino Quella maratola la buca Questa è la ragazza immagine Non mi fa far niente Io spero che tu ci abbia un bel incidente sul raccordo Allora, il tigre, lei vada, vada Grazie, arrivederci Salutiamo il tigre Uomo gatto, mi dissocio da queste due cose Sei un maleducato Sei un maleducato Non si può dire una cosa del genere La possibilità gliel'ha votata Fuori, fuori, fuori Sparisci Non è che sparisce perché l'hai detto te Sparisce perché tu sei stato maleducato E io lo faccio andare fuori A maleducazione rispondo Non ha risposto Lui stava nel gioco delle parti Perdonami di dirtelo Stava nel gioco delle parti E non si può dire queste cose ad una persona Mi hai stancato, ok? Lo devi capire Mi hai stancato Non lo dico più Perché io sto giocando con te Anche se da casa e prendo gli insulti Ma queste cose nella mia trasmissione Non si fanno Non le dico più Va bene? Promesso, non le dico più Io non ci dormo veramente tre giorni Quando non chiudo una persona che potevo aiutare Perché mi capita molte volte Poche Ma mi capita Molte volte non chiudo una persona Che potevo aiutare Cazzo Non ci dormo Non solo per me Ma anche per lei E cerco di capire cosa ho sbagliato Cosa non ho sbagliato Questa è la sessione che mi è presa per il marketing Mi è presa per la vendita E mi ha fatto capire che la vendita vuol dire Avere il dovere e l'obbligo di aiutare gli altri A marketing Ma che stai a fa? Ricordate che i cani Stanno arrivati Oh no Clociardelli E benvenuti in questa nuova Rock Transmission Abbiamo in collegamento Marlin Manson Ah proprio lui Come state? Bene, abbastanza bene Come procede la serata? Come procede? Che cosa mi raccontate? Spero che morirete tutti Grazie mille Mi sono grattato le palle Però io posso counterarti Perché ho una felpa che comunque È vampirica Quindi siamo fratelli Ah che bella felpa Hai visto? Dove l'ha comprata? Non si può dire perché non l'hanno pagato Scommetto Lei sì che capisce di marketing Tra culia Ma è morte bianca Allora, allora No, sono una morte nera Cosa? Cosa? Sono una morte nera La morte nera? Ma non era un'astronave? Che risposta è? Non è Gli hai fatto body shipping dai Gli hai detto che è un'astronave No, al massimo su madre Che c'ha un culo Che pare una navicella spaziale Guazzo Sono una cazzo di astronave Sono gigante No, shit Allora ragazzoni Siamo carichissimi Perché dobbiamo annunciare Luogo e data Del prossimo Cerbero Party Quanti di voi non vedevano l'ora? Chi è venuto a Roma? Chi è venuto a parti precedenti? Chi non è mai venuto E coglierà questa incredibile occasione Perché incredibilmente è proprio nella tua regione Amico mio A due passi da casa tua Ditemi che è in Sicilia Mo Sicilia Marte Grazie Lorenzo Mo Sicilia Mo Sardegna Non esageriamo Insomma I boscari ragazzi Vi faremo sapere Vi faremo sapere probabilmente a gennaio Comunque ci lavoreremo Bologna Toscana Piemonte No, non ci siamo Non ci siamo State Smart Working Beati Vupi Perenne addirittura Grazie 528 Val d'Aosta Quasi C'è quasi azzeccato 24 maggio mi sposo Allora Daniele Al di là della follia Di sposarsi nel 2024 Ma vabbè Puoi venire a festeggiare Con doglianze Giustamente poi Le porti tu Sud Tirol Ibiza Napoli Napoli No, siamo già stati in Campania Venezia Perché no Sicilia Perché no Sicilia? Ragazzi Faccio comparire in secondo Vediamo se capiscono Vai Qualcuno forse Già ha capito? È stato veloce Sì Vogliamo riprovare? Vedemolo così Riproviamo Tipo tendina lenta 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 Che cos'era? Avete visto? Ragazzi 24 maggio Cerbero Parti Proprio lì In Sicilia A Trapani In concomitanza Con il Trapani Comics Ma non solo Concomitanza Anche in collaborazione Quindi Non è una scammata Del tipo Andiamo a mangiare Anche sui presenti A quell'evento Anche se In realtà La cosa più bella Che è la versione Marittima Capito? Versione Marittima Si fa serata Si fa Si fa nottata Sul mare Si fa tutti quanti Insieme Esatto Vi fate pagare No 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 È una collaborazione Nel senso che Saremo Anche in fiera Il venerdì Ovviamente non Il meet and greet Corcazzo Perché è quello Solo al Cerbero Party Però faremo Un'intervista Sul palco E loro ci prestano Un lido Meraviglioso Dove fare il party Poi vi faremo Vedere un po' di foto Comunque la cosa figa Che il lido Cioè il luogo Dove si terrà Il mitico Cerbero Party È a due passi Dalla fiera Quindi Per chi già va Alla fiera Top Raggiungibilissimo Per chi è siciliano Ma che voti che fa Senza ponte Sotto stretto Non vengo Ci stiamo attrezzando Gabriele Per farlo il tempo Esatto Esatto E È ovviamente Esatto Come diceva Gianluca Comunque Gianluca Insomma Il signor morte Ovviamente Sarà Al top Perché è in un lido Quindi faremo Miss Petto Bagnato Che vincerà Sicuramente Maggi Miss Piedini Sempre uomini Grazie Mary Qua Rubino Un po' di tutti Marco Cioè Petto vale per entrare E Anche Miss Moderatore Quante cazzate Ah sì Sta a guardar Cerbero Ma che t'aspetti Miss Piedini Potrebbe vincere Rubino Certo Questo lo deciderete voi Cazzo regà Non sarò in Sicilia Perché ho esami in quel periodo Ma che te frega di esami Ma ancora che sta a pensare La laureate Comunque Ovviamente Ci saranno anche Una vagonata di ospiti Perché molti Saranno anche presenti In fiera Alcuni verranno Eccezionalmente Per noi Li annunceremo Piano piano Comunque Top Chi devo E' siciliano Intanto in chat Così per curiosità E volevo anche dirvi Una cosa Che ovviamente Come al solito Per chi è sub Io Top Dai dai Comunque La prima volta in un'isola E' primissima volta Invece che in Sardegna In Sicilia Primissima volta in Sicilia Mai su un'isola Questa è una roba figa Perché in realtà Più volte ce l'hanno chiesto Dicevamo Eh però sai È difficile con un'isola In realtà Farlo in concomitanza Con una fiera Secondo me Ha molto senso Così Magari alcuni Si fanno entrambe le cose No? Diveremo con Galeone Ah certo Esatto Meliador Sarà il capitano Del Galeone E Il primo aprile è passato Dice la destinazione Ma poi abbiamo anche Tantissimi ospiti VIP Che ovviamente Diremo malmano Eh Ci sono tantissimi ospiti VIP E ci sono un sacco di Presenze Che renderanno il tutto Anche molto sensuale Esatto Ma ancora vanno Steffiere Guarda ti posso dire Che io sono stato L'altro anno Al Trapani Comics Ed era Strapiena Quindi Top E No ovviamente Per quello No però Sì poi ripeto Indipendentemente Comunque noi volevamo Farlo anche In giro per l'Italia E dobbiamo coprire Tutte le regioni Quindi prima o poi Arriveremo Anche da te Ma forse Sarei già morto Quindi nel frattempo Approfitta Prendi sto cazzo D'aereo E vieni Se non sei siciliano Il dottor morte Non lo so Non lo so Magari Boh Verrà insieme Alla morte Del settimo si giro Dottor Bavaro Dottor Bavaro Presente Pure il Mac Ci abbiamo tutti Il freak show al completo Anche Grambaud Noi compresi Muschio selvaggio Muschio selvaggio Toro Hai scritto tre volte Lo stesso messaggio Che ti devo rispondere Bello Un bel podcast Stavo dicendo Che per tutti i sub Dovete entrare Sul gruppo Telegram Perché Punto esclamativo Gruppo sub Sul gruppo Telegram Potete Comprare I biglietti Prima degli altri Una corsia Preferenziale Domani Li metteremo Ono Forse dopo domani Addirittura Per quelli Non sub Quindi intanto Voi andate Anche perché La location È grande Ma non grandissima Considerando la fiera Quindi potrebbero Esaurirsi come l'ultima volta Poi Marsamsara Volevo venire All'ultimo Ma non è che ancora No C'era un minimo De reselling De Rubino Con qualche biglietto Diciamo rimanente Però Come al solito Insomma Vanno sold out Prima i biglietti Quindi Noi siamo Ligi al dovere Non facciamo poi Strappi alle regole Anche in questo parti Ci sarà una diffusione Di dengue Spero di no Spero di no Comunque faremo un bacino Prima ovviamente Lo farà Max Lecesonfe Sarà proprio lì Con le punture È un bacino Istantaneo Proprio Con una mano magica Poi non lo senti Comunque Max Esatto Sembra assurdo Rubino che fa Il reselling Senza pagare le tasse No 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 Ha fatto regolarmente Fattura Rubino Alla sdrubalina SRLS Posso testimoniare Il tribunale Con prove Sì prima Ed ultima volta Al sud Vero Al sud Siamo stati anche In Campania Prima Prima volta In Sicilia Col Cerbero Sì Io sono stato Già alcune fiere Non so Forse pure Sì pure Gianluca e Simone Vero Gianlu? Pure voi siete stati Già in Sicilia Che fiere avete fatto? Sì simone noi Sì Non era al Trapani però Non mi ricordo Però Ma sai credo di sì Sì era al Trapani? Non mi ricordo bene Ok Sì sì Però abbiamo fatto pure Altri posti al sud Comunque siamo stati spesso al sud Forse era Catania Lo sai sì? Etna Comics Mi sa che era forse Anche Vabbè comunque Sì Alla Simone Io sono andato Al Daunia Al Daunia Il Daunia Ci sono andato Al Daunia Ci sono andati a rubire Simone Il Daunia Il Daunia E' speciale E comunque Sì appunto Quindi Punto esclamativo Gruppo Sub Per acquistarli subito Se siete sub Altrimenti fuori Nei prossimi giorni Faremo il post Come al solito Poi annunceremo Qualche ospite Alcuni insomma Potete intuirli Ce n'è anche uno In Locandina Tra l'altro Un salutone Al nostro caro amico Marco Merrino E' lui che ci ha messo In contatto Con gli organizzatori Di questa fiera Per organizzare Devo dire Dei ragazzi Veramente in gamba Spero che non ci rubino Anche loro Diecimila euro Ma insomma Io mi fido di Marco E delle persone Che mi consiglia Mi sono sembrati bravi Dobbiamo ancora riprendere Diecimila Comunque piccolo spoiler Anzi piccolo aggiornamento Più che spoiler Perché ormai questo è I diecimila euro Che ci hanno inculato A Bergamo Li rivediamo Cor forze Perché hanno fatto Il pignoramento E danno incredibilmente I conti vuoti Che bello Da chiamata Cor croarone Il mitico croarone E vabbè Sì abbiamo fatto Il pignoramento Hanno accettato Il pignoramento Però Le banche Associate a quella società Erano Vuote da un pezzo I conti correnti Diciamo Associati Alla società In questione Quindi Alla grande Ci stiamo muovendo Anche con Eventuali Altri beni Pignorabili In Italia E L'ultima Scialuppa È una richiesta Di bancarotta Per la società A noi non cambierà Un cazzo Probabilmente non vedremo Un euro lo stesso Però almeno Questi non potranno Più operare Con tale società E Chiaramente Avranno ripercussioni Penali Un po' Alla Matteo Sabba E eviteranno Di scammare Altri in futuro Non rivedremo I nostri soldi Grazie Che fa Ponen Ma visto che Questi personaggi Hanno preso Anche altri dineri A colleghi A persone anche esterne Al nostro mondo Cerchiamo di tamponare Danni futuri Questa è l'unica cosa Che possiamo fare Ma io la vedo dura Perché io so cose Che però Diciamo Non posso molto Espormi Però diciamo Che una persona Di quelle Sta collaborando Noi abbiamo avvertito Tutti Ovviamente Privatamente Con certe persone O tramite Via Traverse Poi qua ci possiamo Esprimere Esporre fino a un certo punto Perché il croarone Ci ha dato Delle direttive precise Però insomma Sì è un mondo Un mondo veramente Disquali Vi siete sacrificati Per il popolo Sì sì Poi qualcuno diceva Quel party è stato bellissimo Ma infatti È drammatico Perché noi abbiamo Un ricordo meraviglioso Del party di Bergamo Con voi L'organizzazione precedente Tremenda Sempre per colpa loro E questa simpatica cosetta Dei 10.000 euro scammati Sapete qual è La beffa Più divertente In tutto ciò Che abbiamo anche pagato Le tasse su quei 10.000 euro Pensate che bello Perché ovviamente Noi abbiamo emesso Fattura regolarmente No Solo che non l'abbiamo mai incassati Quindi non lo so Adesso chiederemo Al commercialista Con sentenza In mano Non lo so Dei scalare di quei soldi Che non abbiamo mai incassato Non lo so Comunque nel frattempo Già abbiamo pagato Ovviamente L'iva E le tasse Su quei soldi lì Quindi molto Molto divertente Devo dire Al top Mi pare regolare No no Infatti è regolarissimo Comunque Comunque Voi ci siete Noi ci siamo Non deragliamo E non vedo l'ora Di limonarvi tutti Il 24 Dai Dai Sono contento Anche perché Ripetcherò Sarà ancora migliore Sarà Il prossimo party Secondo me Ma sì Ci sono grandi aspettative Per questo party A Trapani Quindi fidatevi Che ne vale la pena Poi minchia Quando sono posti De mare Regà Secondo me Migliora Sì ma poi Sui party Ormai Siamo proprio Presi bene Perché Anche con voi C'è mai stato Un problema Andiamo proprio lisci Pure con gli organizzatori Nel senso Ormai Si è anche un po' Sparsa la voce Tra i vari Gestori Di locali Per eventi Di questo tipo E sanno Che siete Diciamo Un pubblico Sano E quindi Rispetto all'inizio È molto più facile Anche Prendere Dei posti Perché si fidano Banalmente Magari All'inizio Che ancora Non conoscevano La struttura Del party O il pubblico Che ne so Pensavano Questi ci fanno Un danno Risse Può essere Un pubblico Difficilmente gestibile Sempre queste Male lingue Che vengono alimentate Nei confronti Del povero Pubblico Di Cerberini Ma quando Mister Negative È parte del Cerbero Da stasera Prossimo Cerbero Party A Mar Matera Maratea Che caso c'è scritto Grazie Travis B Lasciane qualcuno Agli altri Di Freni Ad aleccare Sì Ne avrai Ne avrai La domanda vera E mo So Freni A Trapani Ti dico Le siciliane Le siciliane Hanno un'ottima Nomea Debo dire Debo dire E sono Almeno così dice Marco Chitano Che è un esperto Le capregne Mi dice che sono Più calde Delle Savorite Delle nordiche Delle nordiche Vero Più saporite Ho detto io Tranquillo La Sicilia È terra di nessuno Possiamo fare il cazzo Che vogliamo Nel senso Che tipo Che ne so Lo stupro Non è regolamentato Come funziona Con sta roba Al sud Eh Cioè dicono In Sicilia Ci sono altre regole No Ma che intendete voi Cioè datemi Voi che siete siciliani Datemi qualche consiglio In più Già Marco Mi ha dato qualche tip Depenalizzato È depenalizzato Quindi vabbè Al massimo è una multa Sì Tipo la bestemmia Sì diciamo che Offendi i genitori Ecco tipo il padre Una fatta di figlia Ok I siciliani sono calorose Ma rompono i coglioni A pallettoni Vabbè ma appena scopata Che devono fare Tanto noi Sborriamo E ce ne andiamo Ti ho dei rumori Bello Klingons Una piccola sanzione Amministrativa Per lo Sturo Me l'accollo Sinceramente 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 Tua L'accolli Comunque ragazzi A proposito di sud Abbiamo un piccolo spot Pubblicitario Se possiamo lanciarlo Marco Se mi dai l'autorizzazione Assolutamente Lanciamolo Vado? Ma lanciamolo Scegliamo da Quale piano Io andrei Dal terzo in su Per maggiore sicurezza Ma come ho fatto A stare in diretta Per quasi Quattro anni Non stop Anche mentre dormo Questa maratona streaming Che mi ha portata Non premendo su Interrompi la diretta Quello ha aiutato È abbastanza semplice La vita E ad aiutare la mia famiglia Sarà presente Al Romics Sabato e domenica Vi aspetto a Romics Potremmo scambiare qualche carcere Scherzare Eh ci voleva andata Occasione sprecata Cioè Romics è una merda Però ci sarei andato Per lui Sì Io ci sono andato Ma questo TikTok L'ho visto dopo No Mannaggia No E non è peccato No E sei perso un caffesimo Eh me lo sarei preso A sto giro Le persone cambiano Vero Anche perché Sarà forse Gli ultimi giorni di maratona Che trascorreremo Proprio lì a Roma No Però la domanda È solo una No Io non so La sua vita privata Ma In generale Come faceva a scopare Eh guarda Io ho visto un paio Di dirette Durante diciamo A Scopanti Dirette con atti Di copulazione Ma essenzialmente Ma davvero Sì 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 Ha fatto sesso In diretta Non in diretta Però nel senso Che arrivava una ragazza O un ragazzo Lasciava la cam fissa In una camera Andava in un'altra camera Il volume era basso Quindi Cioè Il microfono era Direzionale Quindi non sentivi un cazzo Né tanto Qualche rumorino Però Qualche cicolio Però niente di che Niente di che Perché comunque Cioè Non si può rischiare il ban Pensiamo che metteva Cam Kiev A quattro anni Sarà successo Sei sette volte Io comunque lo seguo Tutti i giorni Ah ok Cioè nel senso Non è che è H24 Però è un po' Il mio Truman Show Nel senso che è lì A casa C'è una televisione Soltanto per ceduzzo Sì Il fatto è che Truman Non lo sapeva Di essere ripreso Quindi è questo Che lo faceva essere Vero Un Truman Però lui Lui non lo sa Lui è un fake man Lui è un compliment È un compliment Ma è un compliment E Se sette volte In quattro anni Sono tante Beh per molti sì Cioè Gran parte Dalla chat del Cerbero È pura utopia Minchia Una scopata all'anno Ah vale Porco due Comunque ragazzi Ovviamente scherzo Non lo so Sinceramente Non so rispondere Secondo me Se è fatta Qualche pipetta Se è fatta Sottobanco Non so Ma sotto banco Qualche pipetta Se è fatta Lo dico io Ah è vero Perché in effetti Pure è tipo La masturbazione Vabbè però Vai in bagno Ogni tanto Dai C'avrà Sotto del tavolo Oddio Che era Fata la neve De tu dubiscio Meno di uno Ogni 72 Non è umanamente Sostenibile Ok Ti sei cagato A tos Regas Ho appena arrivato Location Isola d'Elba Isola d'Elba Sul microfono Stare a metà Tra una dimensione E l'altra Il mio corpo Si sta liquefando Stai tutto cagato Oggi non so Che mi sta a succedere Sto tutto cagato Tutto cagato Comunque vabbè Torniamo Vabbè ragazzi È così È così Sono molto stanco Oggi Perché ho fatto Probabilmente After Conomiadol No non proprio After Sono andato a dormire Verso le 4 Conomiadol E Greg Willen In una serata Rock Devo dire Top E poi Ho preso il treno Stamattina Presto Però ho detto No faccio una tirata Non dormo in treno Ho detto Perché se no alla fine Non dormo Dopo la live Delle 15 Quindi sto un po' Provato Devo dire Ci sta Però adesso Questo contenuto Mi ritirerà su Assolutamente Io credo invece Di star scontando Questo weekend Che Proprio Serate Proprio Affattardi Pazza gioia E non bevevo Da tanto tempo Quei cocktail Proprio radioattivi Che se pia Gialluca Dai quali Prendi ispirazione Ma non so Come possa fare Il mulattoni Il mulattoni Diciamo Vabbè ma Gialluca Il mulattoni Tu ti sei bevuto Quello là La fragola Lui c'ha tipo La resistenza De Ozzy Osbourne Io no Lui è la vera Rockstar del Sherbro Chiaro Sana crema Chi ammazza Ti Sta tipo Nel multiverso Cagano Sembra tipo Che stanno Su un pianeta Con una stella Pulsare Che illumina Eh pomada Esatto Il gin tonic Radiattivo Ti ricordi pure Te Mamma mia Ci ha proprio Sturbato Il pomada Oddio Il pomada Sai che se beve Il pomada Se beve Il Lo Jägerbomb Che sarebbe Jägermeister E Red Bull Mamma mia L'amaro Che schifo No si La Red Bull Eh più Si per me È la Red Bull Cioè Però posso dire Che il pomada Grazie mille Nalem È uno dei pochi Che sa Batte Corduca A livello di Intrattenitore Durante le serate Si no Si vede che sono cresciuti Nella stessa giungla Molto simpatica Il pomada In una serata Con il pomada Non ti annoi De sicuro Certe scene Che non si possono raccontare Io Ivan Il pomada E Alex Mucci Altra sera È una roba Proprio Fantastica Il pomada Gli ammolla Ma Mai come Il nostro carissimo amico David John Rubino E spero verrà anche lui Al party Io lo chiederemo Ma penso De sì Insomma C'è Sicilia A terra sua È amato in Sicilia Rubino C'è un sacco di fan Soprattutto siciliane Devo dire che questo È un vlog Molto bello Devo dire che me lo so Goduto tutto Succede Bello Passa una giornata Con Rubino Quindi giorno De Pasqua E De Pasquetta Ok ok Giorno De Pasqua E De Pasquetta Come ogni anno Io vado al Samsara Ma quest'anno Siccome non c'avevo la macchina Regà E non volevo Disturbare nessuno La mia intenzione Era rimanere a casa Ma una certa Mi arriva La chiamata d'Alessio E mi fa Oh Rubì Dai andiamo al Samsara Prima domanda Chi è Alessio? Alessio L'autista no? Il saudista personale Che però è gentile Provo richiedervelo Chi è Alessio? No non lo so I canne I canne Ma io l'ho chiamata d'Alessio Ma come chi è Alessio? Alessio De Gentile Impossibile ricevere una risposta seria Alessio Rubino L'amico mio Alessio Stigliano Dei De Show Pensa te Joe Anna Marsamsara Io Aspetta te Joe Pensa te E Joe Guarda Guarda Yosh Disturbare nessuno La mia intenzione Era rimanere a casa Ma una certa Mi arriva La chiamata d'Alessio E mi fa Oh Rubì Dai Anna Marsamsara Ah ma questo è il rifacimento Della chiamata No no È il momento È il momento Pure sul video prima Se ci fai caso Lui c'è sempre la telecamera Che lo riprende E poi il video lo fa Quando gli telefonano Tipo un drone Lascia il montaggio Quello vero Quindi lui è ripreso 24 ore su 24 Ogni video Sta sempre Che risponde al telefono Casualmente Come è possibile Appunto Vuol dire che è ripreso sempre Sì pure quella volta Ti ricordi Mi stavo a vedere la live Dei miei amici del Cerbero In quel momento Mi ha chiamato Grimbaud Però mi ha rotto il cazzo Pure Cruciani Nel frattempo E Incredibile Gli succedono le peggio cose Solo quando Registra Quindi dovrebbe Sta registrare sempre E gli succedono Cose incredibili Però non sappiamo Tutto quello che scarta C'è ora Insomma Una quantità Dei materiale Insomma Bello grosso Amar Samzara Io Dicevo de si Poi dicevo de no Dicevo de si Dicevo de no E quindi C'è stavo un po' A pensare E mentre giocavo Con il cane Rubì so' il frene Senti una cosa Mi sa che noi Stavamo pensando Di fa Pasquetta Ma è lui Alessio Scusa mo' L'ha chiamato il frene Eh Però Quante persone L'hanno chiamato? Ah Vabbè Non è il K Regà Cioè O K O Frenes O Alessio Non è che mo' Tutti e tre Cazzo è Alessio Ah Freni di the show Ah ok Per Chad Per Chad così Però devo dire Bello così Bello Ragazzo Bello Sara Io non so se te vieni giù Nel caso Se vieni giù Ci possiamo accordare Parla anche con quelli del Samsara Perché nel caso Siamo diversi Fammi sapere Avete convinto Vengo al Samsara Però guidi te Ale Lo dico Però prima di andare al Samsara Che lentezza però Ho capito chi è Ho conosciuto Ho conosciuto Ok Sì sì Alessio Alessio Dai Perché io sono Omo de classe So bello cresco Bello rilassato Mi mancano sopra le sovracciglie Sto avvicinare al senato Tu non è andato dal barbiere Andato dal parrucchiere Ho capito bene Ho sentito bene Parrucchiere Parrucchiere Ok Proprio la scelta Della parrucchiere 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 Star top per Samsara Finito Barba e capelli Occhialetto dell'estate Che fai Non te lo fai Certo che te lo fai E quindi sono andato Dal mio ottico di fiducia Che si trova Via del corso Mi stava a far vedere Una marea d'occhiali Mi provo Stai qua indietro un attimo Eh Col mouse Non stiamo neanche a metà Ancora Vision optica Tipo Amicipsia Capito Io zio ho notato Con la coda dell'occhio Vision optica Calmi optica Vision optica Ma è un piccolo ADV O no? Non ho capito Cioè siamo tipo A3 ADV Rubino No Rubino All'arte del gifted No Rubino Ah gifted Ah gifted Ok Ci sta Ci sta No vabbè Diciamo che Che a Roma Se ti dice Scrocco Hashtag scrocco Ma lo puoi mettere Diciamo Da disposizione In sostituzione Dell'hashtag gifted Sì Penso Ti puoi fare no? Hashtag scrocco Beh sì Ovviamente Solo se sei Però sul terreno Sul territorio romano Sì Franchino a prova Franchino a prova Mi mancava sopra le sovracciglie E sto al top per Sanzara Finito Barba e capelli Occhialetto dell'estate Che fai? Non te lo fai? Cioè E quindi sono andato Dal mio ottico di fiducia Che si trova a via del corso Mi stava a fare Una mare ad occhiali Mi provavo tutti Ma non ci stava mai Raga sto bellissimo Raga sto momento è epico Comunque Il cambiocchiale De Rubino Così è cattivissimo Sì Villain Così è proprio Villain Fumettistico 007 Un cattivo 007 Allora Cerchiamo di definire Rubini Allora Questo è Rubino Una notte da leoni Questo è Rubino Bulldog Ok Rubino The Villain Rubino Ciclope Degli X-Men No Questo non è Rubino Quello era Rubino Di un'altra dimensione Si trova a via del corso Mi stava a fare Una mare ad occhiali Mi provavo tutti Ma non c'è stava mai Quello Che andava bene Quindi Stavo a perdere speranze Ma alla fine Rubino Io ho l'occhiale Giusto Eccolo Let's go Stavo a buon bocchialetto De Gucci Andiamo De Gucci Sta cacata Ma che cazzo è Pare Le cose che ti metti Che si mettono i muratori Per non fare i calcinacci In mezzo l'occhio La visiera La visiera Per i calcinacci Ma la musichetta Che pare Che DJ evolve No Non è la musichetta Di Zelda Quella Non lo so Tipo quando prendi Un oggetto Un portante Non è Zelda Sì sì Bella però Tipo quando apri I pauli L'occhiale guciato Bello Quando apri Il forziere Grazie Saulo Che ne pensi di questi occhiali Sono belli Ti devo un attimo rivedere Ci ho fatto caso A me sono quelli che piacciono meno Rispetto a quelli che ha fatto C'hanno sto buco per naso gigantesco Non mi piacciono Onesto Secondo me Erano quelli che costavano A me piacciono quelli A me piacciono quelli là Diciamo Ti posso dire Sono meglio questi a sto punto Sono lo stesso stile Sì Sì Almeno sono a specchio Sono lo stesso stile Mi sembrano meglio questi Non lo so Questi hanno Sta roba Che ti fa sembrare Naso Tipo Non lo so Ti incastona il naso Sembra tipo Capito La maschera Quella dei Marx Con naso e baffi Sì Poi sembra Lo sai Gli occhialetti Proprio quelli Da snose Fratelli Marx Sì Vabbè Quello ce può pure sta Mezzo drip Capito Vabbè Però so C'è scritto Gucci Però sono gucciati E quindi Sono gucciati Comunque scopi Eccolo Let's go Forse è vero Devi avere il nasone Forse questi Con il nasone Rendono Un bocchialetto De Gucci Annamo Però naturalmente Ho dovuto chiedere una cosa Mi devo fare O sconto amicizia A Rubino C'è scritto di sopra Ci annamo Però naturalmente Ho dovuto chiedere una cosa Mi devo fare O sconto amicizia A Rubino È sempre il solito Vabbè Contrattato il prezzo Sono andato a casa E i valigi erano pronte Yoshi Non era d'accordo Ma io so partito Stesso C'è stavale C'è stava giù E semmo andati Alla grande Fino a che semmo fermati L'autogrill Perché una sosta Una pipì Una mangiattina Ce sta sempre Naturalmente Io mi so divertito Cioè guardate Come stavo rilassato Stavo nel mondo Dei sogni Grazie a Selvatica Grande Babbione Siamo arrivati a Sansara E era tutto Perfetto Bellissimo È ritornato Damiano Peccato che non c'è Stall'edizia C'è stava Gio Le pepsia Ah pure Damiano C'è andato Sì Di Arafaini C'è stava Leo C'è stava Airboss C'è stava Davidaus C'è stava Deee Ma chi? Proprio lui Davidaus Davidaus Un grande Grande Un grande E guardate Come mi porta subito Da beve Ci ho capito tutto Ma ancora Non era arrivato Il giorno dei frene Quindi se siamo divertiti No Il giorno di frene Sembra un passo Biblico Ancora non è arrivato Il giorno di frene Quando arriva So cazzo Guardate che eravamo Balazzo Il giorno dopo Che era Pasquetta Perché i freni Arrivavano a Pasquetta E appena arrivato Se siamo subito Accomodati Guardate che piattini Che far Sansara Zio Sì però Rubì Prima La foto Prima che tu Magni Capito È già finito È vero Sì in effetti Se hai mangiato tutto Comunque raga Se ascoltate bene Dice palesemente Sansara Sentite raga Sentite davvero Non è un meme Se siamo subito Se siamo subito Accomodati Guardate che piattini Che far Sansara Zio Dai regà Ha detto Sansara Sì Non sa pronunciare M's No perché poi Sembra che memiamo Sempre Però spesso Sapsara Davvero Comunque regà Onestamente È vero Che si mangia bene Al Sansara Sì Ci abbiamo mangiato Effettivamente è vero Ottima qualità Devo dire Che robetta De pesce Scioccate sta roba Vedi qua Stavamo tutti a tavola Aspetta da mangiare Stavamo una favola Poi una volta finita la mangiare Se mi ho scesi giù E già se sentiva Il clima samsaresco Che la gente Corlava Cantava già i tavoli Era a macello L'unica cosa Che rega Sardiluvio universale È un tornado Era tutto perfetto Cioè Tornato L'unica cosa è che Pioveva un po' Come lo dice Però è stato un tornado Cioè Non è un po' Siamo morti Pioveva Pioveva quindi È stato un casino Prima abbiamo fatto il samsara Dentro Al chiuso Poi si sono aperte le porte Perché non ho più Piovuto Un macello Ma Vi faccio godere Il samsara Ah Queste parete Non riprese Del rubino Ma quando mai Scroccate Tipo Da Da Tiktok Questo sì però Ringrazio tutti Compreso il samsara Che per me Ormai È una famiglia Molto stretta E me ne sono andato Come sono tornato Rilassato E ci vediamo Alla mia prossima avventura Sono andato come sono tornato Non ha senso Me ne sono tornato come sono andato Ma guarda che secondo me lì il messaggio intrinseco proprio di tutta la cosa Ma sì ma il tempo è un po' sfrutto Metaforico Capito Capito che sono arrivato dormendo E me ne so ito dormendo Però ha sbagliato proprio la frase Sottigliezze La prosa Ma chi sta meglio di lui Come sono nato solito Pucci di culo Piatti proprio delle leccornie Divertimento Gifted Soldi Cioè Una vita proprio in vacanza Chi t'ha masso Ma avrà scopato Quello che si è divertito di più di tutti è Frenzy Avrà scopato Frenzy Frenzy penso di sì Cioè si è scopato Frenzy Le dipsia penso di sì Secondo me si sono scopati Secondo me si sono scopati Rubino penso di sì Sennò che c'è che fa Sampsara scusa Sampsara Sampsara è sinonimo di sepso A me quel piatto faceva schifo Guarda 88 Ironia a parte Te posso dire che Se mangia bene Se mangia bene Ho mangiato St'estate La cucina è ottima Era un piatto Già mangiato E' quello che ha scelto Rubino lì Perché noi ci hanno portato La cucina La cucina è ottima Ve la assicuro pure io Che ho assaggiato Credo tipo Tutti gli antipasti I primi e secondi Li ho assaggiati tutti E devo dire Che hanno un'ottima Tutti proprio Allora I drink però Hanno prezzi eccessivi Sì è vero Costicchiano Ma c'è il sistema Dei gettoni È vero Sì sì Quella è un po' Una scammata In effetti È una roba tipo John Wick I token Sì quello È una roba token Veramente tremendo C'è il video Il sistema token Non mi è mai piaciuto Sì sì ma purtroppo Era roba diffusa ormai C'è il video sugli abbonati Se volete vederlo pure Sono noi che cerchiamo Di bere dell'acqua Stavamo a morire De sete Era troppo complicato Ci abbiamo messo tipo 20 minuti C'erano i soldi Ma non c'è davano Da bere Se siete abbonati Su youtube Sta nella playlist Video speciale per abbonati È vero Sì è un sistema Abbastanza indegno Per incentivare L'acquisto Di Di alcolici E di bevande In generale Assolutamente sì Grazie Oca Cazzo stamattina Ah a proposito Non l'abbiamo detto Mi sa No non l'abbiamo detto E i biglietti Per questo party 20 eh 20 fissi E basta Euro Ah ok ok Sì sì Top In Sicilia ragazzi Sicilia Trappani Grazie zombie Accanto al Trapani Comics Io personalmente Non vedo l'ora Di stendermi Su quelle spiagge Su quelli Di proprio stare A quel sole Con una bella granita E un babà Quello che c'aveva Vannigio e babà Con la panna Ma viene Vannigio Sì E sta là Viene Vannigio Sì Ovviamente Non è che te le pagano Sì è obbligatorio De l'ora Dai eh A te non sei proprio capace Io non so capace Tu non sei capace Casomani Post appuntamento Tinder La briocia Se si dicesse La verità in faccia Cioè Ok Questa è un po' Una critica sociale Attenzione Attenzione Mi ha mandato un messaggio No vabbè L'ho scoperto adesso Sono di Marsala Mi ha mandato un messaggio rubino No 24 maggio Che è successo? Mi ha inviato uno screen Con scritto Questo è quello Che mi hanno inviato E lo screen È uno che gli scrive Mamma mia rubì Al cerbero Ti hanno Umiliato Stavolta Vabbè Le cazzate Umiliato Ma rispondi Non credere a questi Cazzari Cazzari Sempre Sempre Artopper 24 Non ci sono Surmacchio Ma dobbiamo annullare tutto Allora Senza Surmacchione Ma come facciamo? Ma che umiliazione Spostiamo il Trapani Comics Direttamente Annulliamo tutto Va bene Comunque Io dico Ma Rubino Lo sa come si fa sto mestiere No? Sì Cazzo Lo fate una vita Diceva pure Alle tips Ma ancora sta presto a ste cazzate Io guarda Non lo so proprio Tu proprio non lo sai Come si fa sto mestiere Vabbè Vediamo se è un attimo Entone di Francesco Pure questo è un altro Grande amico Che stimiamo Let's go Tu non sei proprio capace Io non so capace Tu non sei capace Casomai Ma cioè Lo sai almeno Maneggiare Lo saprei maneggiare Se solo lo vedessi Ho capito Ma addirittura Mai graffiato mai Io t'ho graffiato Ti ho detto che non lo vedevo Non sapevo proprio Dove mettere le mani Dove mettere la botta E poi Se te posso dire La verità tutta Lava La vostra La vostra parte Dove avete la possibilità Di acquistare drink Puntirana Sì Sarebbe un po' illegale Cioè Vendere In maniera indiretta Alcol Tramite puntirana Al massimo Bottigliette d'acqua Questo sketch Non lo comprendo Perché dà Il presupposto Che Un appuntamento Di Tinder Debba essere Forza una merda Dove si scopa male Addirittura Lei inselava Ma che concezione Hanno Dell'appuntamento Di Tinder Mi chiedo Vabbè Non estremizzazione La realtà Non estremizzazione Vabbè Quindi vabbè È una critica sociale Ma non fa manco ride Ma non fa ride No non fa ride Perché Te devi basare sulla realtà Ma l'assunto Gli appuntamenti di Tinder Fanno schifo Dovrebbe essere reale No Non è così Non è la realtà È un appuntamento Come un altro Allora Se i tuoi genitori Dicessero Si dicessero La verità in faccia Sul sesso monogamo Che hanno dovuto fare Magari Per Per 30 anni Dicessero la verità Su quello Magari lì C'è un po' da ridere E da ancora andare a scavare L'appuntamento di Tinder Il primo appuntamento Si è sticazzo Ma poi le battute su uno C'è a piccolo C'è a piccolo Non lo vedevo Sì Quindi una c'è Quindi su Tinder Trovi quelli che c'hanno piccolo Quelli che inselavano Cioè I presupposti Sono tutti stupidi Sono ignoranti Questo sto dire Io Io Vadovo l'avanti Cioè Vadovo l'avanti Ma te duri due secondi Amore mio No no Ma infatti A posto così Noi non si sentimo più Questa è stata La prima e ultima volta Io me ne voglio dimenticare Top Top attore però No vado a prendere l'autobus Che non c'ho una lira Ciao Ciao Ci sta Ci sta Come atto questa Bello solido Top attore lui Top attore lui Non fanno tutte schifo Le cose La battuta sul Preoccupate Su cosa Il fatto che vieni Troppo presto Come si chiama Qual è il termine Eiacurazione precoce Che emorismo Non mi viene Ma con la parola Non mi viene Eiacurazione Ma con la parola Ma con la parola Ma con la parola Ha capito Il sottotesto Non c'è Ragazzi Se chiamo Guarda Non fanno Sf***ati Guarda Non c'ho Popolo Il vocabulario È vero È vero Passa Madre E diciamo Che Grazie Fede Allora Tutte verità Amine Afsa TikToker Fermato per droga Ho più di 200.000 follower La risposta È i polipsiotti Che c'è Questa è la tesi Cicalone Quando Cicalone Ha raccontato La cazzata Grazie bene Che io Ovviamente Non dicendolo esplicitamente No Quando raccontai Dei termini No Mi rivolsi Ai controllori Forse l'ordine Dicendo Sono un influencer Non mi potete Fermare Uno disse Che tu Avevi fatto Così Eh sì Cicalone Però L'ha fatto Sto Pischello Sto Pischello L'ha fatto Forse segue Mezzogiorno dei Fuoco Non lo so Tra l'altro La domanda Per avere tot follower Ti elevasse A non cittadino Come tutti gli altri È tutto Per droga È una cosa specifica Cioè È ridicolo in generale Però dici Cazzo Non mi conosce Ovviamente questo È quasi sconosciuto Però Dici una personalità Con milioni di follower Te rodo il culo Da supponente di merda Allora dici Cazzo Non mi riconoscete Mi chiedete i documenti Tipo Sgarbi Lo fa spesso Sapete chi sono Non mi chiedete i documenti Che è una stronzata Ovviamente Comunque Tu devi fornire generalità A prescindere Cioè Non è che se commetti Un reato La tua eventuale Notorietà Che vuol dire Pure l'attore più famoso Deve rispettare la legge Che significa Ma non si capisce Poi per droga È una cazzata Di un ragazzino Che ha perso i contatti Con la realtà Probabilmente Ma poi per droga Che cazzo vuol dire Per spaccio Di cosa Non si capisce La droga serve Come materiale lavorativo Vabbè Tipo streamer Vabbè Sono laureato Sono laureato Ma Comunque c'è qualcuno di voi Che lo conosce Sto Sto tiktoker Ma così Per curiosità Che ho mai sentito In vita mia E un po' Sto insomma In quei laghi Paludosi Io Mesnio Dici di più Dici di più Stavo tutto energizzato Lo seguo dagli inizi Da dieci anni Tipo il gad Il gad Ti seguo da dieci anni Non so come fai A seguirmi da dieci anni Sto guardare Però Ragazzi Ne abbiamo parlato alle quindici Arriva lo stop Per la pubblicità Con le patatine Al posto dell'ostia Hanno vinto loro Incredibile ragazzi In queste ore È nata sul web La polemica Per uno spot Di amica chips In cui l'ostia Viene sostituita Dalle patatine Durante una funzione religiosa Se volete Recuperate la live Delle quindici È ovviamente Su twitch Per i sub L'associazione italiana Ascoltatori radio E televisione Di ispirazione cattolica Aveva chiesto La sospensione Dello spot Ritenuto blasfemo Poco fa È arrivato lo stop Richiesto dal comitato Di controllo Dell'istituto Di autodisciplina Pubblicitaria Secondo cui La pubblicità Andrebbe contro L'articolo 10 Che stabilisce Che la comunicazione Commerciale Non deve offendere Le convinzioni Morali Civili E religiose Non c'è nessuna Offesa Alla morale O civiltà O appunto Spiritualità Del cristianesimo In quello spot E anche Farsi Una scorpacciata Di commenti Conferma Sta cosa Insomma Nessuno È d'accordo Con sta decisione Anche credenti Dicono Ma Io non me so Cioè credenti Normali Che scrivono Io personalmente Non me so Sentito Offeso Offesa Da questa pubblicità È proprio Una battaglia Di queste persone Che devono Cacare cazzo Per i loro Totalitarismi E per i loro Proprio Che soffendono Per la minima cosa E quindi Se riescono A ottenere Questa cosa qua Sono contenti Come le mamme Pancine Che rompono il cazzo Per censurare La qualunque Trovano la qualunque Per offendersi E sentirsi indignati Per cosa Ci si dovrebbe indignare In quanto cristiano Per quella pubblicità Io proprio Non lo so Lo dovrò chiedere Boh A mio padre A mia madre Magari Magari commenterà Che ci segui Ogni tanto Il Michele Sì ma appunto Cioè Posso dirvi Che non ci doveranno Neanche loro Nulla di Di offensivo Perché Cosa Cioè pure voi Non so se Vevo bene in mente Cosa è offensivo No ma l'abbiamo parlato Oggi Il fatto che La patata Che 15 anni fa Ha fatto Rocco Siffer Una pubblicità Secondo me Non c'è niente Di offensivo Ma posso capire Conoscendo tante persone Come ragionano Che ci rimangono male Cioè che dicono Oddio mio Stanno usando La sacralità Del sacramento Del Gesù Sì ho capito Però Non sarete Tra l'altro Allora Tutte le pubblicità Che fanno vedere Un matrimonio Ce ne stanno tantissime Ma quello è un sacramento Molto sacro Magari macchine Sì sì E tra l'altro Malesemente Il matrimonio Non laico Cioè se vede che Non è la rappresentazione Del matrimonio in comune No Cioè magari c'è pure I simboli religiosi Bravo sì Ma anche I funerali Funerali Pensateci no Sì ma Banalmente Alla qualsiasi spot Cazzo ne so Dell'esorcista 75 Al cinema No Non lo so E comunque posso dire una cosa L'esorcista è blasfemo quindi Sì vabbè Poi nel 75 Comunque Ovviamente È stato censurato in Italia Sì In Italia non mi ricordo Però sicuramente Cioè Successo è mezzo casino Però parliamo degli anni 70 Sì cioè C'era il delitto d'onore ancora Cioè parliamo Comunque altri tempi Però Qual è il fatto Il fatto è che La cosa assurda È che come dici tu Sono battaglie ridicole E sono vittorie di cartone Anche perché In realtà Amica Chips Si è fatta molta più pubblicità Così Voglia voglia È diventata virale Capito Cioè è assurdo E anzi Secondo me È anche un'operazione simpatia Sì magari qualche Cattolico Era detto Non mi comprerò più Le amiche Chips Secondo me Parese si scordano Cioè Perché è un cazzo Però in generale Si è parlato del marchio Il brand si è potenziato Quindi in realtà Cioè Che cazzo di effetto Hai Hai ottenuto Niente Si è ottenuto L'ennesima dimostrazione Che in Italia Effettivamente Esistono questi Diciamo Nuclei I bigotti Che possono Mettere i bastoni Fra le ruote A Proprio Però sulla carta Se ci pensi Cioè Bastoni tra le ruote L'hanno tolto Sì Dalla tv Poi La parte in giunta Potrà opporsi Entro sette giorni Quindi comunque Come in una lite temeraria Gli stanno a dare fastidio Sì sì Ma infatti Magari Avranno buone motivazioni Gli avvocati Di Amica Chips Per opporsi O magari no Però quello che dico io È Ok Ma hai perso Magari Lo spot in televisione Però si è stato Rimbalzato tantissimo Quello sì Loro lo sapevano Cioè io penso Che l'abbiano Magari lo metti pure in conto Esatto Perché esiste il web Certo appunto Non è più Cioè nel passato Era molto più potente La censura Sì esatto Almeno il web Essendo uno spazio libero Dove Si può appunto Parlare liberamente Una cosa del genere Per lo meno Come posso dire In uno spazio Del genere Dà Spazio A chi Chi la pensa Nel modo giusto Non so come dice Prima Era molto più semplice Mantenere Un unico pensiero Cioè Il cristianesimo I valori Dell'Italia Che sono famiglia Chiesa E quant'altro E quindi Qualsiasi cosa Che differisca Da questi valori O che ci spaventa Come anche il film L'esorcista Non esiste Via Tipo Vabbè Oggi ho visto un video Che parlava Della Corea Del Sud Non sapevo Che ad esempio Tutti i videogiochi Giapponesi E tutte le opere Giapponesi Non sono mai Arrivate In Corea E se sono dovuti Sviluppare Loro Videogiochi Loro cose Vabbè Solo che Ormai È impossibile No Siamo sempre più Interconnessi C'è un bel po' De assio Tra Giappone E Corea Che è sottovalutato Quindi noi Abbiamo sempre avuto Questi diciamo Enti Con Tanto potere Di controllare Quello che vediamo Quello che sentiamo Però ora Con internet È quasi come Se funga Da Da Catapulta Non so Cioè tu censuri Una cosa Ma viene Spreddata Allo stesso tempo Con la stessa forza Con cui tu l'hai censurata Su internet Che perlomeno È uno spazio libero Questo stavo cercando Di dire Se non ci fosse Stato internet Non staremmo neanche A parlare di questa cosa Ce lo dimentichiamo Però almeno Abbiamo I mezzi Per Per capire Che cosa sta succedendo E per Proprio Counterare Questa censura Unidirezionale È stato questo Che ce l'ha fatto Rende conto Ma è pieno De cose Che ci hanno censurato Nel corso della storia Per motivi Che sono inutili E qua per vederlo Sembra tipo che Noi non c'eravamo Il blocco Tipo il blocco Sovietico Della censura No Però un sacco Di roba Comunque per motivi Oggi Estremamente da bigotti Nell'anni 70 80 80 Erano vietati In Italia Ma Erano prodotti De cultura Non neanche Il caso pure Desta pubblicità Però giusto pure Che ci ha fatto notare Che c'è ancora Sto problema Però c'è sempre stato Sì sì Non so se vi ricordate È figo pure Che ci fa interrogare Su cos'è la blasfemia Ormai Perché vabbè La bestemmia classica Però appunto Sono tutti i pretesti Per chiacchierare Per discutere È come dire no Quello che dico Diventa un'offesa Se ti offendi No Ebbè sì Questo è il problema Io Chiaro Magari Dato che siamo In teoria Uno stato laico Dovremmo stare Alla parte Della razionalità No Penso sì Però questo ragionamento Vabbè no Quella era razzista Tipo pure quella pubblicità Che avevano fatto Con gli indiani Che forse Se poteva vedere Offensiva Non offensiva Era un po' in mezzo Poi ogni cosa Va valutata ovviamente Nel senso Ci possono essere Anche delle Delle pubblicità Che effettivamente Possono essere configurate Come incitazione all'odio Cioè può stare però Ma tu puoi decretarlo Perché ok che ti offendi Però poi dici Ma ha senso Che io mi sia Offeso No ma infatti Infatti non dipende Solo da questo ovviamente Poi Altro conto è Magari Anche nella vita Di tutti i giorni Regolarsi di conseguenza Cioè Un mio amico si offende Una persona Che non conosco Si offende Mi comporto Di conseguenza Ma questo non significa Che io abbia sbagliato Magari a dire una determinata cosa Poi Per mia bontà Posso decidere Di venire incontro Ma chiaramente La Giustizia Ciò che puoi fare Non dipende Dalla percezione Dell'offesa Dal danno Neanche dal danno In realtà Spesso Lo ripetiamo al volo Vai Prima scena Non vedo nulla Di blasfemo Oddio Cioè Se Non penso Che il fatto Che ci siano Attrici suore Sia blasfemo No ci sono un sacco Di attrici suore Anche freni Mi ricordo Che fecero tipo Una fiction Se non sbaglio Proprio Rai Uno di quei programmi Bacia preti Con la tizia Che faceva pure Cesaroni Come si chiamava Ma comunque Hanno fatto un miliardo Di fiction Rai A Don Matteo Che è blasfemo Elena Sofioris Esatto Don Matteo Hanno fatto miliardi Di programmi Tutti quanti Su predi Su suore Su Santi Che fanno qualsiasi cosa Che sono attori Bellissimi Gran figli Quindi no Andiamo avanti Ma il problema Era che la blasfemo Figuri Sì La blasfemia Sì La blasfemia Non che era offensivo Offensivo Verso la morale Che c'era scritto Eh perché Religione Credo altuna La blasfemo Le suore No però No l'ho chiuso Vai in Schede chiusa Sì E alla fine Arriva lo stop Sì La legge dice Ecco Allora Lo smensivo spot Ritenuto blasfemo Tra virgolette La comunicazione Come c'era Non deve offendere Convinzioni morali Civili e religiose Ah ok Quella la legge Qua civile Insomma Non c'entra niente No perché mi ho detto Mazza addirittura C'è Offensiva Verso la cristianità E i cristiani Insomma Blasfemo Quello si intende Don Camillo Sì ma troppo Blasfemo ovviamente Si intende una cosa Contro le religioni In generale Però ovviamente Contro il cristianesimo Al rogo C'è sta la suora Che invece Capito Di mangiarne una Come sacramento C'è sta la suora Che invece di mangiarne una Come sacramento Si fa Si fa Assuefare Questa parola Che torna sempre Dalla gola Capito No commetto un peccato Un vizio capitale No le vuole tutti C'è c'è un pacchetto Solo per lei Non si fa così Parite magari pure Consacrate Capito Però sti cazzi Mi mangio Ma che il messaggio Intrinseco Parite Che per lei Sta ai livelli De Gesù Questa roba Capito pure Quasi mi sto fomentando E ora voglio fare L'avvocato Che sostiene Che è blasfemo Cioè Il senso è che Per lei è come Gesù Capito Sta ai livelli De Gesù Sta roba È tipo Dio È quella la cosa Per quello è blasfemo No E se no che Una suora Che dovrebbe rappresentare Ovviamente Una vita Non di peccato Una vita casta Una vita retta Con gli insegnamenti De Gesù Cristo Non può lasciarsi andare A uno dei sette vizi Capitali Quali la gola Vabbè però è una cazzata Perché in realtà Anche le suore Sono peccatrici Non devono Cioè Il loro cammino Non dovrebbe farle essere Quello è l'obiettivo Però nel senso È compreso Il peccato Cioè il fatto che Ogni uomo Nasce col peccato Originale Sì no ma anche Che possano sbagliare E poi Sì però scusami Ma se una suora è grassa Peccherà a decola Sicuramente Tra l'altro Cioè è strapieno De suore sovrappeso Ma guarda Io mostro Semplicemente Sono utentriche chite C'è quelle là Penso che Le esporto Poca roba Le patatine Queste qua Sono set di regole Sono dogmi Che In cui ovviamente Non credo Ma che Usano Quelli che ci credono Sì sì Ma l'obiettivo Dovrebbe essere quello È ovvio Sì sì Si fa una vita casta Diciamo All'infuori dei vizi Certo Però Il fatto che si possa peccare Anche se Sei una suora È normale Esatto Ma infatti Anche Il cristiano Normale Mica si offende Nel vedere Magari Anche una suora Che commette Un peccato Certo Ma anzi È una cosa umana Però In linea di massima Non dovrebbe Capito È come se Moio Facessi vedere Un prete pedofilo Comunque È greve Non lo dovrebbe fare Sì è una cosa Ancora Molto più grave Che va Se lo usi come pubblicità O un prete Che si droga Non è così Non è capito Ma su un film Lo puoi pure mettere Un personaggio Però Cioè nel senso L'atto della pedofilia A parte il fatto Che è in crimine A differenza magari De una pugnetta O de mangiasse Tu patatine in più Sì E quindi Non è solo Un atto impuro E basta È anche un atto violento Quindi non è solo Un peccato Magari Sì Cioè anche Nell'ottica del cristiano Ovviamente È un livello diverso Sì ecco Una cosa Di plasfemia Potrebbe appunto Il prete che si tromba Le suore Che quindi tra di loro Hanno la lussuria Anica Anita Eckberg L'attrice pure Che la interpretava No Edwitch Fennek Anita Eckberg Tra l'altro Stapelpa è blasfema Ah beh sì C'è il Dracula Corcrociviso Certo Ma io so Per il diritto La blasfemia Cioè per fatte capire Grazie 98 Comunque La vedete un attimo Amica Cipsi Il divino quotidiano Posso dire Sto slogan non mi piace Grazie Smink Non c'entra molto Però mi piace molto In realtà Il volto Del parroco Un gioco di luce Che non fa vedere Le pupille dagli occhiali Molto horror Bello Belle anche le rughe Enfatizzate dalla fotografia Ma dimmi una scena Del patrino La prima cosa Aspetta però Non mi piace però Guardate qua Allora Guarda Marco Scavarcamento È vero Cioè Non è Quella la blasfemia Esa bravo Cioè allora In realtà c'è uno stacco Nel senso che lui Guarda dietro Lei guarda Lui guarda dietro La suora Che sta ricevendo L'ostia Sì se girano Tecnicamente C'è un po' Mezzo sta Perché c'è un altro Intermezzo Cioè non è Sarebbe stato Non è proprio Un campo e contro campo No Sarebbe stato Vedi così No in realtà A mezzo c'è sta A mezzo c'è sta Sì Da un po' L'effetto strano È un po' strano Perché secondo me È superfluo Questo stacco qui Sì Cioè vedi da qua Perché Cioè tu Prima c'è la prospettiva Cioè tu da spettatore No Stai Osservando Questa linea No Quindi l'occhiale Che guarda in basso Un po' strano Però comunque È un po' strano Però Non è Non è scorretto È un errore Che pure aggiuntiamo Non è proprio un errore Sì È Amica Cipsi È Un attacco Cioè diciamo Un pezzetto in più Che non ha molto senso Diciamo Ma nell'arte Non si può fare Il cazzo Che si vuole Ma infatti Dico A me non piace Al di là delle regole No ma ci sta Perché pure nella musica Puoi fare una cagata No no Ma le regole Le regole esistono Per un discorso di semplificazione Ovviamente Non è che sono dogmi Ah tu dici Per questo Non per il dogma Sì Lo scavallamento No no Le puoi fare Spesso in realtà Vengono usati Per creare un effetto Di un certo tipo Però diciamo Che le regole sono Più o meno Come funziona Il nostro occhio Cioè È un discorso Anche se vuoi Di proporzioni Di geometria Cioè sono delle cose Che ovviamente Non sarebbe fluido Come la nostra mente ragiona Cioè da sinistra verso destra Tante cose Hanno osservato Che se fate le cose In un certo modo È più fluido Cioè Ti dà La percezione anche Dello spazio Cioè ti rendi conto Di dove sono i personaggi All'interno di una stanza Ok Poi però Anche lì Un regista può Invece Voler suscitare L'opposto Nello spettatore Cioè io non voglio Farti capire dove sono Voglio disorientare Voglio disorientarti Cioè in quel caso Le rompi appositamente Quelle regole E poi vabbè Ovviamente Ci sono tanti altri motivi Anche a struttura del film Questo è uno spot Quindi sono anche Di base più velocizzata Però appunto Mi ha fatto strano Perché dico Boh Sembra un pezzo in più Comunque La mia analisi A parte una suora Che pecca Non c'è nulla Di potenzialmente Proprio minimamente Blasfemo Il marketing Non è arte Sveglia Qualcuno potrebbe Contraddirti Amore mio Ma non era questo il punto Non stiamo parlando Di arte o non arte Secondo me Non può dire un cazzo Pure neanche sostituire L'ostia Con un altro alimento Non è blasfemo Non ci vedo nulla Di blasfemo Ma ripeto Direi che Possiamo anche farla finita Con queste puttanate Ragazzi Cioè battetevi Sulle cose importanti Cristiani E ne avete di cose No? Di cose importanti Per le quali battervi Specie in politica Facciamo tornare La democrazia cristiana Come vecchi tempi Torniamo forti Solidi Allora Ragazzi Il mio conduttore Televisivo preferito Del debbio Dritto e rovescio Baby Touchet E calla Cioè Non hai fatto il tempo A metterti il microfono Sul culo Per quanto te sei a caga sotto Perché fai A caga in garage Baby Touchet Il trapper col macete Parla dritto e rovescio Dove? Questo è un posto De capezzone Il mitico Che vuol dire Il trapper col macete Eh Trapper col macete Tipo cane pazzo Pure il trono Scusa Hermoso Ho trovato in casa Un macete E sei denunciato Per detenzione abusiva Di armi ed esposizioni Ma che cosa stai dicendo? Indagato Quali armi fitte? Quali armi fitte? Dai Che è successo? Ma poi lì Non c'è il bagno Non lo so È venuto Sei inquadrato E rindato in bagno Ma non è il bagno Quello Ha acceso la macchina Che te caga in macchina Ha acceso la macchina sua Ma come ha acceso la macchina? Non lo so Perché Ma se ne sta andando Un po' Ho visto la luce Secondo me Si è cagato sotto Ho sentito veramente la macchina Secondo me Si è cagato sotto E sta andando a casa Ah si Tu dico io Si è cagato sotto E sta andando a casa Oddio Ma state davvero Ragazzi Si è cagato sotto Secondo me voleva fare la gag E si è cagato sotto Non si è sentito Ragazzi Mi ha fatto una scureggia atroce Avevi sentito che era? Aveva una vocina Che ti sei mangiato? Sembrava tipo una porta Ma che ti sei mangiato Simo? Non mo' so curioso Che ti sei mangiato? La cosa assurda La cosa assurda è che Ma 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 ha iniziato a fare così lo stomaco Prima che ho iniziato a mangiare il sushi Cioè mi è arrivato il sushi a casa Ho preso la busta L'ho posata Quella di Glovo Ho iniziato a fare Ma perché Pfff Tutto Tutto è scureggio L'hamburger che ho mangiato L'hamburger che diceva Gianluca Che gli ho dato un pezzettino No ma E' strano perché Può essere pure un'influenza intestinale Poi mi è andato via al singhiozzo C'ho aria Sono pieno d'aria Può essere anche Che non dipenda per forza Dall'alimentazione Un palloncino Ma può essere Anche altro Il singhiozzo secondo me È strettamente collegato Vedi Lo sapevo Quello mi fa di Dalle scureggie All'aria nello stomaco Ma le scureggie Le colleghi all'aria In qualche modo Se io fumo Mi ritorna Il singhiozzo Quello è classico Poi le sigarette A volte capita Davvero Eh vabbè scusate La regà è il dengue Ti dai troppe ari Sono i sintomi del dengue Sì sì Ti dai troppe ari Ma poi Non voglio prendere farmaci Voglio che questa cosa Faccia tutto il suo Bravo stile dei droni Sono d'accordo Tutto il suo decorso Non fumate Esplode lo stomaco Può essere che va Cioè può essere Poi essere che esplode Perché se metti gas Più accendino Più accendino sì Vabbè Comunque Torniamo a baby douche Un macete così Di 54 centimetri Già ti ho visto Che tipo di persona sei Già ti ho visto Ah che tipo di persona Ti risponderò Scusa Ogni sua domanda Lascia stare Lascia stare Ho capito Lascia stare Quel macete l'ha comprato al brico 29 euro Al brico 29 euro al brico E quindi uno C'ha 59 euro Non lo sono portato in giro È a casa mia E quindi tranquillo È a casa mia Tu a casa tua Non hai coltello da cucina Grosso così 54 centimetri di macete Per fare il video E diretti taglio No 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 io un coltello Ci serve un avvocato bravo Ma anche un medico bravo Oltre all'avvocato Facciamo tutta una cosa Di professione Va bene Ascoltami Ti dirò una cosa Ti dirò una cosa La vita reale è altro Non è quella che vedi tu Quella che vede Voi vedete nelle favole No la vita reale È quella dei ragazzi Che si alzano alle 6 e mezzo È assurdo perché Non mi ricordo Quando avevamo fatto L'imitazione Desta roba Poche live fa Comunque forse A mezzo giorno di fuoco Non mi ricordo Ma è proprio La classica roba Da salotto televisivo Io poi che la pezzone Lo amo Cioè è un king Anche dal vivo È un mito Però mamma mia Sono proprio le punchline Facilissime La vita vera È quella dei ragazzi Che si alzano alle 7 e mezzo Per lavorare Mica la tua Cioè gli applausi Abbiamo detto mille volte Cosa pensiamo Di dritto e rovescio Ovviamente È una delle poche cose In realtà Non delle poche Una delle cose sensate Che ha detto Il mio amico Rondo A Muschio Era proprio questa Aveva citato Trasmissioni come queste Che prendono i token E l'abbiamo detto Spesso pure noi No Cioè ti devono creare Il mostro E giustamente Si chiedeva pure lui Ma perché sta gente Ce va Cioè in effetti Un baby touché Ma che cazzo C'ha da guadagnare Da dritto e rovescio Cioè non è neanche Secondo me Utile per la fama Posso capire Sai Un Jordan Jeffrey Baby Ai tempi Non mi ricordo Se andò Forse da Giletti Però quello Mezzo ci sta Perché comunque Era un personaggio Molto hype Beast Anche loro ovviamente Però secondo me Baby touché E altri Hanno comunque Una nicchia Che un po' Li rispetta anche Ok Robbe che io Ritengo ridicole No Queste cose di strada Le gang Gli schieramenti Cioè hanno già Una fascia di pubblico Che comunque Li segue Che sicuramente Non appresta Sta mondezza Ma è tipo il wrestling Però no Non è tutto Sì però Quello che dico io Cioè o fai come Baby gang Che fai la memata E gli mani in sosia Oddio Ha fatto così Sì E io l'avevo scambiato Per lui perché era identico Io non l'avevo capito Sì 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 Era un sosia In questo caso Boh Non capisco Baby Touché Capisco Capezzone Il suo ruolo Capisco del debbio Però È un regalo Che fai a sta trasmissione Come tutti quelli che vanno Poi vabbè Il discorso è sempre il solito Per fatti tu follower Però secondo me Il pubblico Che vede questa roba qui Non è che te segue Poi su Instagram Cioè non credo Che tu riesca A prendere pubblico Sono proprio due contenitori Completamente diversi Poi certo In qualche modo Se parla di te Che ne so Pure noi ne stiamo a parlare adesso De riffa o de raffa Qualcosa prendi Però secondo me Sono più i danni No? I danni che fai te Eppure tutte le persone Sì magari Quello non gli frega un cazzo Perché sono egoisti Dicono Mi faccio due follower E sti cazzi Da categoria Sì da categoria Insomma Però boh Cioè non capisco Anche perché Potevo capire anni fa Gli inizi Desta trasmissione Dice vabbè vado lì Mi confronto Cioè ormai è un pattern Talmente Facile Manifesto Cioè C'è del debbio Che vuole fare Il sigma della situazione E cacciare Il maranza di turno E cacciare Il trapper di turno E se è un impertinente Gli applausi facili Richiamati dall'ospite Che ti dice Abbumerata I montaggi Dei video Dei contestualizzati O gli attori No Oppure dei pezzi Dei tuoi videoclip O delle storie di Instagram Anche i grepi Che hanno fatto Perché poi questi neanche sono santi Alcuni sono anche criminali Un microcriminale Però Quando è il prossimo party E dove Cucca Trapani 24 maggio Sai chi era questo qua Questo qua Ne avevamo parlato Che era stato vittima De un sequestro Di persona Poi l'hanno pure condannato L'altro trappere Che gli ha fatto il sequestro Però pure lui E' un altro tipo Che C'erano le gang Sì 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 Ovvio Ma poi questi Sono veramente Dei personaggi Spesso allo sbaraglio Però È facile Merce facile Sì Trapani Veramente Maestro Sì Sì Trapani Grazie Boku Ma non era tipo Baby game Grande Boku No era Simba Larou Che l'hava sequestrato Stanno anche bene in chat Tipo Baby game Cioè la domanda Non ho capito quale Se intendi Quello a cui faceva riferimento Gianluca Erano Esatto Simba Larou E lui Ste due crew Queste cose molto americane Ma poi fateci casi I capezzoni In questi casi Ma i tantissimi Perché avete spesso Le poche volte Che vanno A preoccuparsi Del precariato Dei giovani Che devono trovare lavoro E che soffrono Si svegliano la mattina presto E quando devono parlare male A un altro giovane A un altro immigrato Se no gliene frega un cazzo A dei giovani in generale Sì è vero È vero È vero Però quando Eh questi giovani Che soffrono Parla male A un altro giovane Magari D'altra etnia Un'altra razionalità Giusto Per farci un culo così Ti è chiaro Ti è chiaro Ti è chiaro Quella è la vita Che taglio però Ti è chiaro Ti è chiaro Mamma mia Scusa Tanno Mamma mia Comunque Piano di perle Piano di perle Sta puntato È inascoltabile però Te giuro È Piano di perle Espulso dal programma Questo è il momento C'ha debbio ragazzi Il rapper marocchino Il rapper marocchino Il rapper marocchino Marco si riesce a zoomare Poco poco Grazie Che commenti Eh Allora Democrazia Allora viene a sedere Aspetta che pure in basso Ah Comunque queste scritte qua Sono state fatte su tiktok Eh Non Non del programma Ah bel Guardate un secondo Sì sì Il ritorno di Undertaker Sicuramente Gianluca L'avrà visto Sì A Wrestlemania Ma il ritorno È un parolone Grazie Andrea Apparizione Apparizione C'è un cameo Sì Ha fatto un'apparizione Non lo sto a dire Recuperateve Recuperateve Tutta quanta La roba De Roman Reigns Con The Rock Cody Rhodes Eccetera Tutto molto figo È stato Che commenti Eh Allora viene a sedere Vieni a parlare Vieni a parlare Noi andiamo via No vieni 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 senti Vieni senti Dai Zio Vuoi che faccio queste cose Zio No no tranquillo Vieni senti a parlare Allora Democrazia in Parlamento Ve l'avevo detto io Eh Sì sì Ma cosa devi aver detto Ve l'avevo detto Ma l'hai creato tu Sto programma Io lo avevo detto Speravamo Speravamo Sta funzionando Era quello che voleva Ovvio Ma l'avevo detto io Però vuole far sembrare Come se è contro La sua volontà Questi ragazzi Io ci provo A farli parlare Io do parola A questi giovani Però guardate Sono poco indisciplinati Io vorrei dire Che li disegnano così Allora Bisogna accogliere tutti E quindi va bene Così Perfetto Ora Puoi farla finita Di fare ste robe Io sono tranquillo Il mio modo di essere Non ci lasciano parlare Se no Voglio chiedere solo una cosa Ti posso chiedere una gentilezza Se no ti ci porto proprio fuori Quando ti rivolgi A una persona Più grande di te Non la puoi chiamare zio Perché primo Non è tuo zio Zio è rispetto per me Secondo Bravo Che primo Non è tuo zio Ma che cazzate Ma che è sta Pumerata Proprio atroce Cioè questo è proprio Capito? È nonnismo Bravo Che è settantena Che sono bravo Bravo Devi portare rispetto Magari è un fascio De merda E non è migliore De sto coglione De Baby Gang Non me me n'ha No Baby Gang Oddio Ho detto Ho detto Baby Touche Vi chiamate tutti Uguali Un po' di originalità Io mi chiamo Marra Ma è il mio cognome Mica me lo so scelto Mamma mia Sta manica dei coglioni No scherzo Mi venite a tagliare la culo C'è una via Non è tuo zio Dio è rispetto per me Dio è rispetto per me Secondo No non è rispetto Perché primo Non è tuo zio Dio è rispetto per me Dio è rispetto per me Secondo No non è rispetto Ti dà del lei Per rispetto Tu stai parlando Con una Spoiler È mio zio È mio zio Proche Pubblico più grande di te Applaudo anche io per te Applaudo anche io per te Sì Cristina In Sicilia Sicilia Dai se beccamo lì Se sei i sub Sul gruppo c'è già Il biglietto Non ti ho sentito Ripeti Non ti ho sentito C'erano le applausi Puoi ripetere gentilmente Grazie Guarda Grazie Dal rispetto Per gli altri Ci vuole un po' di rispetto Nessuno qua mi ha rispettato Da quando ho messo piede Rispetto pure è una parola chiave E poi ho detto Ma anche il giovane C'è proprio la paternale Ho messo piede Nessuno mi ha rispettato Da lui Nessuno mi ha rispettato Perché ti stiamo parlando Io sono fin troppo rispettoso Non toccarmi Non toccarmi Non toccarmi Non toccarmi Non passiamo a queste cose Non toccarmi Non ti abbiamo rispettato Tornati anche a tuo posto Mettiti a sedere Tornati al tuo posto Tornati al mio posto Il mio posto è dappertutto Anche il mio allora Se no me ne vado Va bene Dobbiamo parlare così Debbiamo parlare così Siamo calmi Siamo calmi Che cazzo di roba Guardate la postura Sono inquadrato? Vai 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 Proprio plastico Capito? Che guarda videocamera Però c'è ragione Però c'è ragione su una cosa Il mio posto è dappertutto Qua c'è ragione Il conduttore Se deve un attimo muove La ragione di 18 anni Che figurante Che fagliaccio Non toccarmi Non toccarmi Non toccarmi Non toccarmi Ha fatto una cosa La mossetta Ma sì Si è riseduto subito Ma la roba ridica Che frega niente Ma poi quanti ragazzini Semi di 18 anni Trovereste Che o voi mettere in mezzo E risponderebbero male Perché devono fare Quelli basti al contrario Ma sì Ce ne abbiamo avuto pure Infamia Un cucino Ma io infatti Ti ripeto Che non mi stupisco Né del Debbio Né degli ospiti del Debbio Né del pubblico Che applaude Tipo Robot Né del pubblico da casa Mi stupisco Di questi qua Ti dico Il maranzello Il coionazzo Lifebeast Che vuole fare due Follower in croce Non ha possibilità Se non svendersi A questa tv bestiale Lo capisco Però Cioè Baby Touché Con tutto che a me Per esempio Fa cagare anche musicalmente Però Ha un suo seguito Alla fine Anche per le cose orribili Che ha fatto Che ce vai a fa Che cazzo ce vai a fa Non ha senso Dovrebbero aver capito Che succede Basta Cioè È la centottantesima puntata Con lo stesso script Ti mettono un mail Dai 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 Ti mettonato Portano anche a mio posto Vai 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 Non toccarmi Non toccarmi Andiamo No no Siete un cazzo Andate fuori Dai coglioni No no Siete un cazzo Andate fuori Dai coglioni E poi è completamente Sboccato Cioè La cosa che me farite Che lui Sembra tipo un po' Lo zio Che sta al bar Che si dà un tono Comunque vestito bene Pretende il rispetto E poi è certa Capito Sboccato Fuori dai coglioni Sta di cazzo Andiamo Andiamo No no Siete un cazzo Andate fuori dai coglioni Quando viene la direttrice A dirmelo Non tu Allora La sicurezza Qualcuno Che porti fuori loro Parlavo con la gente seria Non contento Il direttore Ecco Poi una cosa che devo dire Veramente Una critica costruttiva Del debito Ma Allora Se lo script è questo Lavoriamo anche di più Sulle comparse Tipo La sicurezza Lui spesso chiama la sicurezza Arriva sempre qualcuno Improponibile E' uno Poraccio Giacca Caravatta Che sta Che ne so L'addietro A seguire qualcuno Dei camerini Mettici uno grosso Oh capito Metti pure lì Un bel bestione Un pomata Bravo capito Metti un bel bestione Tatuato Cattivo Che fa La sua porca figura Che ne so Ci metti Un bestione Afroamericano Di un metro e quaranta Largo 12 C'ha un suo senso Cioè a livello Diciamo di Ci arriveranno Di struttura cinematografica Non so perché Lo sto immaginando un po' Come che c'è Potrebbe diventare come Sarabanda Ma lo è Guarda che lo è Già lo è Sì Più se va avanti Più diventa Una messa in scena Totale È proprio teatro Teatro È proprio ruolo Delle parti Con alcuni teatranti Inconsapevoli Spesso Tipo in questo caso I ragazzi Oppure magari alcuni Sono consapevoli pure Lo sanno Ci vanno apposta A fare scenette Però È sempre la stessa cosa Quindi dico Lavorate meglio Anche su Alcune comparse Perché per esempio Qua non mi rende Sta scena Sicurezza Cioè dovrebbero arrivare Capito Tipo tre bestioni Correndo Creando scompiglio Cioè arriva sto tizio Che ha la camicetta Un po' è così Un po' è febico Buttato lì No No Non mi fai provare paura Capito Mettimi un po' di tensione E il pubblico Che si mobilita Cioè Capito Miglioriamo su questo Perché sennò perde potenza E non è la prima volta Che la noto sta cosa Più volte che chiama Sicurezza Qualcuno Stiamo fuori Stiamo cadendo Fuori Il direttore me lo dice Ho detto fuori Andiamo Dai lascia stare Sei un troglodita Dai non è credibile Sì Ma Dai Ma questo palesemente Sei un troglodita Hai sentito sotto Sei un troglodita Chiama zio Dai Questo regà È uno che sta al pc Cioè Tipo il commercialista È l'avvocato di qualcuno Cioè Non è un buttafuori È come se noi mandassimo Gabriele Sì O che ne so Giuseppe Croari Eh no Non è credibile Farebbe ride però Sì Farebbe ride Però appunto Secondo me Vedi Non funziona molto Croari che accompagna via la gente Adesso si Si deve subito Accomodare fuori Dall'estudio Vai 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 Ora che ti prendo Guarda che ti Oh Oh Oddio Rissa Rissa sfiorata Grazie Pricento Rissa sfiorata Regà Che è un troglodita Vai 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 Ora che ti prendo Guarda che ti Sfiorata Cavalcate fino in fondo Questo schifo di trash show Lo capisco il regista Che lanza Che fa Vabbè Manda in onda Quel tipo Guardate che fa Quello in collegamento L'ospite in collegamento Chi è poi questo Non lo conosco Chi è Se doveva tipo Spogliar Te giuro Non so chi sia Chi è Giornalista Chi è Cosa fai L'opinionista Probabile Tutto internet Allora Ricominciamo il dibattito Che spettacolo Che trascimento Adesso abbiamo visto Ah Ti ho chiamato Chiamato Totorino Scusa Io sono Totorino No che mi stai parlando Strada strada Zio Lei hai fatto la strada Mi stai parlando in strada Scusa A chi l'hai detto Totorino No lasciami No no Lascia perdere un nulla Lo dico io A chi l'hai detto A me non mi metti paura Non mi metti nessuna paura Dai torna No io sto qui Io stavo facendo un'analisi Chi è Chi è A chi l'hai detto Ringo Top analista comunque Stavo facendo un'analisi A chi l'hai detto Con lui Lui Ringo Ti chiedi scusa Allora senti Ti chiedi scusa Ma no c'è bisogno Gli hai detto Totorino Gli hai detto Totorino Sono proprio le cazzate Perché si Maestro col bambino Ma tra l'altro Io l'ho capito il contesto Cioè Baby Doucet Ha fatto tipo La classica Ha strutturato La classica frase Tu mi parli di strada Ma che sei Totorina Come per dire Non capisci un caso di strada No Tipo che sei Appunto Un boss dalla mafia Che conosci la strada Certo No Ma tu gli hai detto Totorino Chiedigli scusa Chiedigli scusa Adesso Le cazzate Già l'intento iniziale Era crea sta cosa Certo Cioè proprio Che tu ti attacchi Al modo di dire Non alla frase reale Cioè C'erano dibattito Io ti insegno la strada Tu Ringo Che cazzo sei strada Le solite puttanate Però aveva un suo senso Il paragone È una metafora Cioè non è Non è che gli ha detto Sei un mafioso Certo Invece il pretesto Che ti attacchi Alla minima cazzata Cioè secondo me Ormai Del debbio Ha Dentro di sé Anche l'istinto Di intervenire Per sottolineare E alle volte Travisare Terminati i messaggi Ed infilarsi Per creare Lo scompiglio Cioè proprio Quello è l'obiettivo Cioè cerca Il minimo pretesto Per creare Lo scompiglio In una situazione Che ovviamente Fornisce ovviamente Zero a livello contenutistico I dibattiti Sono quello che so Però Ti attacchi Alla minima cazzata Sì Totorina No Mica mi fai paura a me Chiedigli scusa Chiedigli Hai detto mafioso Non è che entrano Nel merito Di cosa significa Magari Vivere Vivere la strada Certo Che cosa intendi No Gli hai detto Totorina Chiedi scusa Eppure mettere zizzania Ma poi non c'è neanche spazio Qualora Baby Douchet Avesse un pensiero Comunque anche interessante Non sarebbe possibile Farlo esprimere Perché cercano proprio Di buttarla in cacciara Appositamente Io penso che Se loro È proprio la decostruzione Eh bravo Se per caso uscisse qualcosa De lui Se riuscisse a fare Un dibattito costruttivo Loro lo vedrebbero Come un fallimento Sì sì Direbbero Sanno che la gente Vuole che questo Venga distrutto Infatti vedi Il mirabolante Nico Però ti risponde Puntualmente Sì dimmi Vedi Dai marra Porco dio A canna Mo lo fanno anche santo A sto trapperino A canna Vedi È quello che pensa Ogni persona Che lo vede Cioè io Questo qua Lo reputo Un criminalotto Da strapazzo La persona Che abbiamo già commentato Non devo stare A sottolinearti L'ovvio Cioè dovresti essere Abbastanza intelligente Da capire Che non è che vado A giustificare Un cretino Come Dona Lee O questo qui Nei comportamenti criminali O molesti O da bullo Di incitazione Poi capillo Alla delinquenza No Ci puoi arrivare Il problema Non è quello Che la criminalità Si starà sempre Sti esempi negativi Si staranno sempre Sti ragazzotti Così si staranno sempre Il fatto è che La televisione Che si configura Anche in questi casi Come programma Di informazione Perché comunque Il dritto e rovescio È nel talk politico Ad esempio Io non ho mai visto Niente di cosa Abbia fatto Sto baby touché In passato Quindi Io qua sto vedendo Una dinamica umana Vedo degli umani Che interagiscono E succedono delle cose Mi baso su quello Lui si è ovviamente Fumantino Impulsivo E tutto quello Che vogliamo Ma in questo contesto Non è un criminale In questo contesto Stanno accadendo Delle dinamiche umane Specifiche Che sono quelle Che stiamo analizzando Poi appunto Il guaio E la cosa Su cui giocano loro Proprio questi programmi qua È che tu Già appena entra È il criminale Perché magari Te fanno vedere Il filmatino Te lo presentano In un certo modo Quindi tu Già là C'hai un'immagine Di lui Nella testa Che te lo mette Già come Vabbè Ma tanto ci ha torto A prescindere Che magari Cioè sì Non sarà La migliore delle persone Ma è un gioco Dove Però tu Non capisci Quello che sta accadendo Veramente E noi ti aiutiamo A capirlo Anche perché Facciamo una versione Di questo lavoro Poi soprattutto Come dici tu Se quello C'ha già l'etichetta Del cattivo Del mostro Capisci che Non ha Bravo Verissimo Avevo capito Dove volevi andare Verissimo Cioè Tutta sta roba È costruita Per quale motivo Cioè Ci sta Come dice Simone Presentare una persona Anche nelle sue infamie Nei suoi delitti Nei suoi crimini Nei suoi brutture Ma se vuoi un dialogo Perché teoricamente Questo dovrebbe essere Un talk politico Dammi almeno Una base No Sulla quale Si può discutere Invece no Cioè lui deve entrare Da mostro E deve uscire Da mostro Alla seconda Capito Cioè Deve essere mostro In modo lo trovano Lui aspetta un pretesto Come questo Che è anche stupido E ci si attacca Come un cane Al giocattolino Capito Questo è Cioè Già lui è presentato Come mostro Per le cose Che ha fatto prima Ma anche durante Vedete voi pubblico Noi ci abbiamo provato A cercare dialogo Io do diritto De parole a tutti Però vedete Queste sono bestie Fuori dai coglioni Via Calci in culo Tanto E c'è anche colpa lui Perché ovviamente Tanto lo sciò Ma hai fatto fa Capito? Ti chiedi scusa Ti chiedi scusa Tanta volte Però vedi Che Sembra Tina Cipollari Sì Lui ridicolo Ovviamente No Però la cosa Assurda È che se ci fate caso Cioè Del debbio Ha In ogni puntata Tante opzioni Per lo stesso finale Cioè Fateci caso Cioè Non so Finale alternativa È sempre quello È il finale E lui è cacciato Cioè Secondo me Lui c'ha tutte le varie opzioni Nella testa E ripeto Alcune istintive Perché ormai Lo fa da anni Questo lavoro E comunque Deve finire così Cioè Deve trovare presto Per cacciar Attaccarci nel culo Capito? Ma Qua poi torna E invece poi Se ne va Come abbiamo visto prima Perché questa è precedente In questo caso Fai quello che ti dico io E quindi comunque Asserisco la mia Dominanza È un'umiliazione Perché poi Non devi chiedere scusa Di niente In quel contesto E la persona stessa Ti ha pure detto Ma non c'è bisogno Tranquilli Quindi è proprio inutile C'è bisogno per me Vogliono solo umiliarlo Bravo è quello Umiliarlo perché lui Va umiliato E i vecchi sono contenti L'obiettivo è già quello E quindi È un programma barbaro Se c'ha questa premessa Cioè ovviamente Tipo noi Pure se invitiamo Una persona Che potrebbe aver fatto Delle cose Che non vanno bene Non è che parti già Con il presupposto Lo dobbiamo distruggere Perché così Non si crea Proprio quel dialogo Che ti fa anche scoprire Delle cose in più Tipo no Quando è entrato Liccardo L'ultima volta Cioè Io ho rosicato Perché Quando invece è entrato Le prime volte Che non sapevamo Niente di lui Gli abbiamo Anche dato Quella fiducia Che gli ha Gli ha fatto fare Quei passi falsi Che ci hanno permesso Di scoprire un sacco Di cose Prima di accusarlo Definitivamente Ma tipo Quando già è entrato Nel secondo gate Insomma Nella seconda fase Appena è entrato Subito a insultarlo Subito a trattarlo Come Per soddisfare Come per Appunto Per soddisfare Quella nostalgia Per ricreare subito Quella cosa Ma secondo me Si è stato Troppo Diretti E questo È un errore Che si fa Quando hai un pregiudizio Che ti impedisce Il dialogo Con una persona Una spero Una spero di essermi Spiegato Prossimo aspecto Del debito Ma Ripeto Loro Secondo me Pescano Cioè ci stanno Autori Che pescano A caso Tra Gente Neanche poi Così rilevante Cioè spesso Hanno preso Veramente Maranza Che erano Il Maranza Token Cioè non devono essere Per forza famosi In realtà Perché tanto Il Maranza X Baby Gang Baby Touche Per il target Di riferimento Non sono nessuno Allo stesso livello Cioè Il fake Baby Gang Per un Sessantenne Che guarda del debito Vale come Baby Gang Che invece È uno degli artisti Più ascoltati nel mondo È uno degli artisti italiani Più ascoltati nel mondo Ma non cambia un cazzo Ovviamente per sessantenne Don Ali Si come no La commentammo La puntata Si si Don Ali da del debito E anche là Nonostante le cose Che abbiamo già detto Don Ali Li trattarono Come token La propria dritta e rovescia E fa quello che vuole Mi dispiace Mi dispiace Perché No a me no No a me no 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 Così è brutto La Torina Lo dice al suo fratello O a sua madre La sua borsa Alla sua borsa Non la prende là subito Subito Tranquillo La borsa La borsa Non c'è niente zio Per carità Che poi dici Che te la rubate Buona giornata Ciao a tutti Grazie per il tempo Allora Addirittura nel mondo Sì ragazzi Peccato No a me A me non mi dispiace Vabbè Tu continua di peccato Non è stato un bel dibattito Non era offeso Ha deciso lui Che doveva offendersi O doveva buttare Oddio Mi è capitato Tra i consigliati Comunque si ragazzi Baby Gang È uno degli artisti italiani Vorrei spendere E' una persona qua Che ha veramente Tutto il mio rispetto Non ho mai visto Una persona Con delle palle Così grosse Taurus Non ho mai Non ho mai conosciuto Una persona Come te Fratello O non so come chiamarti Perché veramente Ti metti in difficoltà Da solo Perché sei una persona Molto orgogliosa Come me Tanto rispetto per Taurus Ah vabbè Roba che Se sponsorizzano l'evento Cioè frega un cazzo Cioè quello di prima È uno degli artisti italiani Più ascoltati No non quello di prima No no Baby Gang Baby Gang Due Baby Touche Quindi anche Baby Touche No non è così ascoltato Baby Gang È uno degli artisti italiani Più ascoltati al mondo Sì Penso a te Sì 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 Non so che era una gag Nelle piattaforme di streaming Sì Ah ok Sì sì Gli effetti dell'hype Per Restaurant Mania Questo è peggio a Luca Ma il cazzo Stia di Marra Ma che cazzo vedevo di Niente No beh Cercate Che vedevo di Cercate Baby Gang È indubbiamente vero Cercate È indubbiamente vero Grazie 96 Le piattaforme di streaming Non rappresentano Effettivamente La cosa più ascoltata Realmente al mondo Rappresentano Quella ascoltata Che più al mondo Sulle piattaforme streaming Che mo' sono usate Tanto Non è la totalità Del No no Ovvio No così Stia non è che puoi lavare i piatti Per favore I piatti Sì Adesso vedi Ti sfido Il perdente Lava i piatti E si vince il titolo Per la cintura Ci vediamo di nuovo Roman Reigns Suplex Lascia stare il gatto Coglione Ti hai fatto la valigia per domani La valigetta No no È troppo presto per l'incasso Devo aspettare Almeno due o tre settimane Fatti curare Perché con questo wrestling Hai rotto il cazzo Non è che puoi lasciare Ma vai Hai rotto il cazzo Comunque è vero Victor Laszlo È super fan del wrestling Più del Gianluca Sì è vero A voglia Cazzi io vedo ogni giorno Esattamente Nei giorni in cui C'erano dei eventi importanti Che c'ha tipo 700 storie Sta proprio Tutto in hype Mai visto Manco così per il film L'unica cosa che deve fare Victor Laszlo Per quanto mi riguarda Come Hai detto? Eh Gianlu? No ho detto che sta Wrestlemania Dico è stata una cosa Bella pesante Ha creato un sacco di hype La cosa De De rock in primis È stata una bellissima mossa La cosa che deve fare Victor Laszlo Secondo me E Chi come lui È sostituire quel cavolo Di telefono Con patina Proprio da Da back rooms Che hanno i suoi video Quei telefoni qua Fotocamera spenta Io capisco che ce la Mi zio Ma se ce lavori Comunque Se comunque il tuo intento È lavorare sui social Consiglierei di investire Su un telefono Con una fotocamera Almeno con colori umani Che non ti fa sembrare Veramente che stai A silent hill Tutto grigio Io non ci faccio caso Perché ormai siamo abituati Che quello è anche il suo stile A me dà fastidio ogni volta Però grazie Grazie Io per esempio Non ci faccio caso Però prendiamo Sto video di Enzuccio E questo è un video Fatto bene Non è un telefono Non credo sia un telefono Però effettivamente Non c'è mai un video Da una qualità Bella Ed in HD Solida A me piace così Più sporco Devo essere sincero Vittor Boh Voglia di Voglia di Voglia di Voglia di Voglia di Il pombo Se vanno freddo Ste boracce Fanno 5 gradi La canzone dell'estate Ho voglia di Bel culo Beh qualità Di qualità Di qualità Un grande Enzuccio Comunque Solo it Solo it Il 2016 Però Il 2016 Top Panno Panno È vero Beato lui Che c'è Chiudiamo Secondo tradizione Con Osho Ma come con Osho Chiudiamo Secondo tradizione Con Osho Quindi Bruno Vespa C'ha Stata tradizione Non lo sapevo Mica Chiudiamo Secondo tradizione Con Osho Eccolo qua Un TikTok Un TikTok di Conte Che fa la reaction A porta a porta Avete visto Che spawna così Avete visto Ho sentito male Perché stavo a scrollare Ho visto Vespa Mi ha colpito Perché infatti Ci dava Osho Osho Quello che fa Ste robe qui E poi c'è Jumpscare De Conte Avete visto Dei Marco Re Sembra Sì Per la parata Del 2 giugno Mi vuoi lasciare Avete visto Io Ne ricordo Un'altra straordinaria In cui io e Zelensky Facevamo Diciamo La rassegna E passavamo Davanti Davanti Alla La barata E io Dicevo a Zelensky Oh Ci sono rimasti Solo i flauti Sì Un po' di auto Ironia Giorgia Meloni La nostra Presidente del Consiglio Anziché impegnarsi In un negociato Di pace Ma lasciala stare Con la musica Epica Ma regà Io continuo A ribadire La mia crociata Contro Conte Sui social È cringe Cioè non funziona Ha anche ragione Ma è cringe Sì Però non è che Puoi prendere Un momento Come diceva Simone Un momento Di distensione Un talk show Cioè Devo fare una risata Giorgia Meloni Ride Invece Le hanno fatto vedere Una vignetta ironica Grazie che ride Capito Cioè l'ironia Che deve fare Avete visto Anzi Cioè viene vista male La reazione scomposta Di un politico Alla satira Anche se è satira Bumeristica No Cioè come chi si è incazza Contro Crozza Viene visto male Anzi Il politico Se deve prendere La satira No Sì L'avrebbe preso Ha visto Ride Che ponga fine Al conflitto russo-ucranico Che cosa fa Ridi alla grande In tv Addirittura Sghignazza Rispetto all'invio Di armi All'oltranza Che ci sta portando Alla terza guerra mondiale A noi però Non viene da ridere Con un governo Che ha messo Del metto Pensati adesso Alla chetichella Stanno approvando Modifiche che consentirebbero Al governo Di poter esportare Ma che cazzo è sta roba Un doppiaggio Ma cos'è Dele modifiche che consentirebbero Ma cos'è sto voi sopra Sera pure sbagliato Capito E poi soprattutto Capito Rimetti sto bianco e nero Perché c'è sempre la meloni Stanno approvando Modifiche che consentirebbero Al governo Di poter esportare Liberamente Come quando vogliono A chi vogliono Le armi Senza nessuna trasparenza Rispetto ai cittadini E rispetto al popolo Anche la lista delle banche Coinvolte nel commercio Di armi Verrà secretata Le denunce di banca etica E di tutte le associazioni Pacifiste Durante le audizioni In Parlamento Sono allarmanti Il movimento Si schiera con loro E denunce Cercherà di contrastare Tutto questo Grazie a meloni e cosetto Abbiamo un governo Amico delle lobby Delle armi Anziché un paese Amico Alleato Della pace Piuttosto le maggiori investimenti militari Concentriamo Riviamo dignità ai nostri ospedali E alle nostre scuole Investiamo in tutto ciò Che fa bene Che migliori la nostra qualità di vita No a ulteriori invio di armi No a ulteriori investimenti militari Mi sono accorti che gli italiani E' tutta contro No la guerra No la guerra Quindi stanno tutti a fare questa propaganda Ma se fossero al potere Farebbero tutti la stessa identica cosa Io sono d'accordo con lui Solo che lui è antipatico E Giorgia è simpatica Quindi starò con Giorgia E' simpatica e kawaii E' anche una bellissima donna Che è successo negli ultimi mesi Tutti quanti Stanno reagendo così Ho notato che anche lei Per come si pone E' molto meno E' più femminile Fateci caso Prima era molto più maschiaccia Adesso è più Certo Fateci caso Fai gli occhietti dolci L'ha fatto Che vuol dire Da leader di pensiero Da manipolazione totale Di un popolo Fatto dei maschi Hai ragionissimo E non è un caso E vabbè Non ripetiamo le stesse cose Perché abbiamo già parlato In una live precedente Recuperate Dove abbiamo analizzato L'utilizzo dei social De Conte Conte ha ragione Certo L'ha detto anche Simone L'abbiamo già detto Però attenzione Perché Prima doveva cercare L'approvazione Attraverso La figura Di un uomo Forte E infatti Era molto più dura Molto meno femminile E doveva richiamare Altri istinti Cioè la sicurezza Mi posso fidare Questa è donna Però mi posso fidare Perché comunque È una doscia Doveva Prendere quel ruolo lì E infatti ha sostituito Salvini In quella roba lì E anche Berlusconi Vabbè Comunque è quella che ha preso più voti Nella maggioranza di governo Adesso invece Deve fare più tenerezza Sì Perché in realtà Molte più responsabilità Cioè E quindi deve Suscitare Un'emozione diversa Cioè non devi Riconfermare Quella solidità Perché nei fatti Non l'hai dimostrata La solidità Devi fare appello Ad altro Cioè queste sono cose Che vanno date Per farire buona E umana Molto più di prima Qua adesso Lei fa appello All'empatia Sì Alla tenerezza No? Poi è anche single Adesso Sulla carta sì Quindi si sa Che qualcuno torna single Si Non può Si capito Si riscopre Anche No? E inizia A risplendere un po' Vero 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 Quindi fateci caso A ste cose Raga Qui ovviamente Non siamo ribati L'obbio Cioè sì Cameloni ha fatto Un cazzo L'hanno detto mille volte Però Queste sono cose sottili Ma che ovviamente Hanno un effetto gigantesco Non Voi perché non votate Che tanto me ne frega un cazzo Però Grazie 97 Allora Non riuscite manca A scrivere una cosa intelligente In una chat su Twitch Figuriamoci Votare per il destino Di un paese Giusto State pure registrando Aspetta Tutti al bagno Di un paese Di un paese